Sì, è un termine, sì, in effetti di moda, rivisitare anche per i testi, per certe cose. Noi rivisitiamo qualcosa di meno di grossi testi letterari, ma rivisitiamo appunto una canzone, una vecchia, purtroppo bisogna già dire vecchia, ma non lo è tantissima, ma chiarissima canzone, prettamente estiva, Monte Carlo! Benissimo! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.